Viaggiare nel 2011 attraversando la Germania e l'Italia in un modo antico, a piedi percorrendo le strade che mille anni fa furono percorse dai pellegrini per giungere a Roma. Lui è padre Klaus, in viaggio da circa due mesi. Nel suo portadocumenti vi è solo la carta del pellegrino e una cartina stradale. È giovane e sorridente, ha l'aria sportiva, parla un po' di italiano, inglese e ovviamente tedesco, e per testimoniare il suo lungo pellegrinaggio, internet e YouTube. Ho ancora un mese davanti a me perché voglio arrivare a Roma e ho già un appuntamento per un'udienza della sua santità che mi rende anche molto felice. Quindi il Papa ti sta aspettando, sa che tu stai facendo questo cammino a piedi per raggiungerlo? Non so se lo sa anche il Papa, comunque lo sa l'ufficio del Vaticano, dice lì sono anche spesso molto lenti, per cui ci vuole sempre molto tempo per raggiungere qualcosa, comunque ha già un appuntamento. Il tuo viaggio è un viaggio a piedi? Cioè veramente a piedi? Sei arrivato fino a Ravenna partendo da Turinja? Oppure hai utilizzato anche dei mezzi di trasporto, treni, autobus, pullman? Non c'è nessun treno, tutto a piedi. E com'è fare un viaggio di questo tipo a piedi? È faticoso, certamente è molto faticoso, però intanto se non sbaglio anche i pellegrinaggi sono di nuovo di moda, ma poi soprattutto quando si cammina a piedi non si passa attraverso un paesaggio, ma si vive quel paesaggio, si vivono le persone, si ha modo di apprezzare ogni piccolo cambiamento in ogni chilometro che si fa e si ha anche molto tempo dentro la testa per pensare, per vivere questo viaggio. E le persone che hai incontrato finora? Come hanno reagito? Ascoltando le tue parole e scoprendo che stai facendo questo pellegrinaggio? In generale positive, però diciamo che ho avuto tantissime esperienze diverse, molti che mi hanno aiutato, ma sono rimasto spesso anche davanti a delle porte chiuse, anche di chiese e di conventi.